Buona Pasqua a tutti voi amici del meraviglioso gioco del baseball e buona Pasqua con il primo podcastone della stagione per quanto riguarda la Opening Week 2023. Come gli altri anni è tempo di fare la solita panoramica iniziale di tutte e trenta le squadre in una stagione che sappiamo però aver cambiato molte cose a partire dalle nuove regole. Infatti ne parleremo in questo primo episodio del podcastone, vedremo in che modo sono state applicate e poi ovviamente ci concentreremo sugli eventi significativi di questa Opening Week che appunto si conclude di fatto oggi ma comunque abbiamo già tantissime cose di cui parlare e alcune le vediamo già in questa classifica iniziale della division soprattutto l'American League East. Prima però di parlare del baseball giocato dopo aver ovviamente parlato fino a fine marzo del World Baseball Classic che ricordo ha vinto il Giappone sugli Stati Uniti andiamo a vedere quelle che sono le nuove regole e appunto come sono state applicate. Da questa stagione per dare una sorta di velocizzazione al gioco del baseball perché prima le partite erano effettivamente un po' troppo lunghe sono state cambiate alcune cose, è stato introdotto l'orologio per quanto riguarda i lanciatori, sono stati dati forti impedimenti o limitazioni agli shift difensivi e poi sono state anche allargate le basi. Le regole più importanti va detto sono le prime due, l'orologio del lanciatore viene scandito in questo modo di fatto vengono dati 15 secondi massimo a ogni lanciatore per lanciare in caso di basi vuote se invece è presente almeno un corridore sulle basi allora il tempo sale a 20 secondi. Questo orologio in realtà è fondamentale e vale sia per il lanciatore sia per il battitore perché i limiti del tempo del lanciatore li abbiamo appena visti il battitore a prescindere che siano 15 o 20 secondi deve essere pronto per girare il lancio del lanciatore ai meno 8 secondi. Se dovesse succedere un'infrazione di tempo allora il battitore viene attribuito uno strike d'ordinanza appunto se per esempio non è pronto al secondo numero 8 del countdown mentre per quanto riguarda il lanciatore viene attribuito un ball d'ordinanza qualora appunto la violazione sia completa tradotto vengano ecceduti i 15 secondi o appunto i 20 secondi. Un esempio delle violazioni del battitore in realtà le abbiamo già viste in questa stagione ci trasferiamo direttamente al Petco Park questa è la sfida tra i D-Backs di Arizona e appunto i San Diego Padres qui Machado non è pronto al secondo numero 8 del countdown gli viene attribuito uno strike d'ordinanza e viene appunto essendo su conto pieno attribuito di uno strike out Machado poi protesta e per questa azione verrà anche espulso dal arbitro di casa base evidentemente la violazione era evidentemente corretta vedete che al secondo 8 Machado non era pronto scaduto il secondo 8 strike d'ordinanza chiamato Machado finisce strike out ed inque inning concluso per quanto riguarda gli Arizona D-Backs che peraltro perderanno quella partita contro i San Diego Padres evidentemente queste nuove regole per quanto siano interessanti e molto belle evidentemente devono ancora entrare nella testa di alcuni battitori e può capitare benissimo nel caso come Machado che anche campioni sbaglino ad applicare queste regole appunto ricordo ancora una volta entro il secondo 8 il battitore deve essere pronto oltre diciamo del secondo 8 gli viene attribuito uno strike d'ordinanza in questo caso parlavamo di conto pieno tra le bolle due strike con tre strike si è eliminati e di conseguenza K regalato appunto da Machado a Zagal l'annaciatore partente degli Arizona Diamondbacks l'altra regola fondamentale da sapere invece è la limitazione per quanto riguarda gli shift questo era stato fatto per limitare appunto i mega spostamenti difensivi in caso di battitori mancini che appunto per fisica sono portati a battere tutti nel campo destro fino all'anno scorso si vedevano cose del tipo che c'erano tre interni appunto nel campo sinistro di cui soprattutto il terza base che faceva una sorta di intervase tra prima e seconda ebbene adesso non si può più fare la grafica è molto esemplificativa in questo caso ci possono essere per regolamento due interni per metà di campo tradotto nella parte destra del campo ci possono essere due interni nella parte di sinistra del campo ci possono essere massimo due interni non ci si può spostare al di fuori del cucino di seconda e quindi da quel punto di vista è già una forte limitazione è anche vero però che in alcuni casi qualche manager ha opzionato l'idea di mettere un esterno di fatto molto più avanzato nel ruolo che era appunto di interbase tra virgolette tra prima e seconda e con il rischio di lasciare scoperta una parte di campo esterno certo che al momento la limitazione ha fatto sì che i battitori mancini in questo momento siano leggermente più avvantaggiati e possono magari mettere più palle in gioco e più valide e assicurate è stato fatto un po' appunto per spettacolarizzare l'attacco che in questa situazione era abbastanza limitato vengono anche come ultima cosa allargate le basi appunto anche per favorire gioco sulle basi rubate e chiamate varie cose che negli anni passati si era un pochino persa fino all'anno scorso di fatto si giocava molto al big ball tradotto fuori campo come se piovesse adesso invece già nelle prime partite abbiamo visto più giochi sulle basi più rubate più schemi insomma si tende a giocare molto più small ball che effettivamente è una parte del gioco che è giusto che venga riguadagnata nuove regole che francamente a me da tifoso stanno piacendo tantissimo rendono le partite molto più veloci abbiamo visto delle partite sulle nuove riprese di media durata di due ore e mezza cosa che invece fino all'anno scorso non ci poteva essere a volte non era infrequente trovare delle partite che duravano ben quattro ore anche nelle nuove riprese metti caso se è una partita con tanto punteggio invece adesso anche una partita che magari possa finire 10 a 9 può durare oltre tre ore che comunque è un tempo accettabile per quanto riguarda il gioco del baseball ovviamente queste sono mie opinioni personali non sono giornalista sono semplice tifoso però comunque è giusto parlare di queste regole che stanno rivoluzionando e secondo me anche salvando il gioco del baseball in questa situazione parlando però di gioco del baseball e parlando di classifiche parliamo appunto di campo e il campo recita partendo dall'American League East che c'è una squadra che sta sorprendendo tutte senza se e senza ma sono i Tampa Bay Rays squadra che non bisogna mai dare per morta e mai sottovalutare certo è una squadra che è abituata a partire in modo interessante in stagione è abituata ad arrivare ai playoff non mi aspettavo sinceramente che partissero 8 vinte e 0 perse peraltro miglior partenza di sempre della formazione di Kevin Cash 8 vinte e 0 perse peraltro con delle partite incredibili perché vediamo che il differenziale dei punti tra segnati e subiti è più 46 i Tampa Bay Rays non partivano così da mai è la miglior partenza da quando di fatto esistono come Tampa Bay Rays ed è la miglior partenza della squadra dell'American League East da 86 anni qualcosa di clamoroso la cosa incredibile è che evidentemente i Tampa Bay Rays hanno vinto tutte le partite le prime otto di stagione con almeno 4 punti di distacco ed è qualcosa di incredibile qui ci trasferiamo direttamente al Tropicana Field di St. Petersburg Florida questa è l'ultima partita giocata contro gli Oakland Athletics squadra in crisi se ce n'è una e questo è lo strike out decisivo per chiudere il discorso Tampa Bay ha vinto 11 a 0 l'ultima sfida contro Oakland sono 8 vittorie di fila per la formazione della Florida che veramente è inarrestabile sembra veramente una squadra in missione certo le partenze turbo vanno prese con le pinze ma Tampa Bay appunto se è partita così non oso immaginare cosa possa fare nel corso della stagione ricordiamo che sono una squadra abituatissima a arrivare ai playoff e anche in finale con dei budget ridotti e con un sistema molto ma molto interessante in seconda posizione ci sono i New York Yankees 5 vinte e 3 perse in una squadra che evidentemente è abbastanza altalenante al netto di infortuni vari gran parte della votazione degli Yankees è fuori appunto per problemi fisici certo però che gli Yankees devono ripartire dal proprio capitano perché sappiamo l'anno scorso che Aaron Judge ha effettuato il record di fuoricampo in American League per quanto riguarda la regular season e parliamo di 62 fuoricampo ebbene Aaron Judge ha ricominciato dove ha finito lo scorso anno perché il primo fuoricampo della stagione 2023 è proprio del numero 99 che gira questo lancio di Logan Webb lo spedisce lungo e profondo oltre alle recensioni dello Yankee Stadium ed è fuoricampo per il capitano degli Yankees che vanno sul tabellone contro Logan Webb e San Francisco Giants Judge si riconferma un giocatore di categoria superiore e appunto ricomincia da dove aveva finito ricordiamo che Judge ha firmato un contratto di nove stagioni appunto essendo che è un trentenne Judge evidentemente chiuderà la carriera ai New York Yankees ed è il primo fuoricampo da capitano per quanto riguarda il 99 5-23 perse dunque per quanto riguarda i New York Yankees New York Yankees che però comunque devono aspettare che ritornino gli effettivi sul monte di lancio perché appunto ricordiamo mezza rotazione è praticamente fuori c'è un Garrett Cole al momento in stato di grazia e gli altri in qualche modo se la cavano certo però che gli Yankees non si aspettavano di certo una partenza così folgorante dei Tampa Bay Rays la terza squadra dell'American League East invece sono i Toronto Blue Jays squadra che come ogni anno è dal potenziale enorme ed è di fatto in via di galleggiamento con un record appena sopra il 50% le ultime due formazioni sono appunto i Baltimore Orioles e i Boston Red Sox però con degli umori totalmente diversi perché i Baltimore Orioles sono una squadra molto giovane e di tanto talento abbiamo visto per esempio il primo fuoricampo della stagione di Henry Roachman che è uno dei grandi prospetti della nazione al primo turno di battuta certo gli Orioles alcune partite le hanno buttate via perse in rimonta chi delude evidentemente è Boston è vero che comunque non è una squadra costruita con appunto un core di giocatori interessanti come era lo scorso anno hanno perso Bogers hanno perso altri giocatori importanti e sono ultimi a pari merito con questi Baltimore Orioles al netto che l'umore è un po' diverso due vinte di fila per i Red Sox e una persa evidentemente per quanto riguarda i Baltimore Orioles sarà comunque interessante vedere se queste due squadre si possono riscattare e competere in una division molto difficile perché appunto già l'American League East è un bagno di sangue figuriamoci in questo momento dove è partita lanciata le altre squadre più o meno se la cavano ma ovviamente è ancora presto per fare i conti passiamo all'American League Central i primi sono i Minnesota Twins con sei vinte e due perse partenza convincente da parte della formazione di St. Paul del Redivivo e del figlio orprodico Carlos Correa due vinte di fila per la formazione appunto dei Minnesota Twins i secondi classificati sono i Cleveland Guardians con cinque vinte e quattro perse striscia aperta però di due sconfitte consecutive terzi sono i Chicago White Sox un po' a bagnomaria che sono partiti un pochino come l'anno scorso è vero con qualche infortunio qui e lì per esempio Eloy Jimenez che è in lista infortuni per almeno dieci giorni e poi le ultime due formazioni di fatto non contano parliamo dei Kansas City Royals e dei Detroit Tigers che sono praticamente dove dovrebbero essere Kansas City è quarta con tre vinte e sei perse mentre i Detroit Tigers sono due vinte e sei perse peraltro i Kansas City Royals vengono da due strisce di vittorie di fila mentre per quanto riguarda i Detroit Tigers arriviamo a tre sconfitte consecutive l'altra sorpresa più importante dell'American League è appunto l'American League West perché i primi sono finalmente mi verrebbe da dire i Los Angeles Angels con cinque vinte e tre perse Otani Traut e compagnia sono partiti alla grande è vero che anche l'anno scorso erano partiti comunque in un certo modo erano in posizioni di contender per quanto riguarda i playoff sono partiti bene anche quest'anno vanno pesati però ovviamente nel corso di una lunga stagione comunque per una volta è bello vedere i Los Angeles Angels in testa le classifiche della division al netto che comunque c'è una mezza delusione ed è chi occupa la quarta posizione in mezzo agli Houston Astros invece abbiamo i Texas Rangers e Seattle Miners Texas è pronosticato un po' dove dovrebbe essere al netto che anche Texas è una striscia aperta di due sconfitte consecutive ma comunque è un record accettabile 4 vinte e 4 perse Texas è una squadra che sta costruendo per tornare grande ha preso De Grom ha preso Simen ha preso Corey Seager quindi è un core di giocatori assolutamente di livello vanno evidentemente ad amalgamarsi ci vorrà del tempo comunque una partenza non così disastrosa Seattle è appena sotto una sconfitta in più 4 vinte e 5 perse per una formazione che secondo me quest'anno ricordo anche una volta può arrivare anche ai playoff delude Houston che è partita col freno a mano tirata in una division che sulla carta dovrebbe vincere in modo tranquillo è vero sono sempre le prime nove partite ma comunque vedere Houston non nelle prime posizioni fa un po' specie 3 vinte e 6 perse per la formazione del Texas che ne ha perso 2 consecutive ultimi sono gli Oakland Athletics che hanno addirittura vinte 2 ne perdono 6 sono in striscia aperta di 3 sconfitte consecutive ma di Oakland sappiamo benissimo che situazione hanno è già tanto se giocano ancora una volta al Colosseum non sappiamo se nel futuro giocheranno ancora a Oakland verranno ricollocati a Portland o a Las Vegas Oakland è molto sul chi va là e finché non ci sarà una definizione della situazione in Oakland vedremo una formazione di questo tipo navigando nelle ultime posizioni della classifica passiamo adesso alla National League e ancora una volta andiamo ad analizzare la National League East partendo dagli Atlanta Braves che ovviamente sono partiti forte come giusto che sia netto che sono un attimo in flessione 2 perse di fila per la formazione della Georgia che comunque è prima con 6 vinte e 3 perse in seconda posizione abbiamo i New York Mets con 5 vinte e 4 perse New York Mets che continuano a fare delle campagne acquisti clamorose sappiamo che in Friggin si è stato preso anche Justin Verlander per rafforzare una votazione del Monte di Lancio che ha perso De Grom ma comunque può contare ancora su Max Scherzer è evidente comunque che è presto per fare giudizio un po' come tutte le squadre è comunque importante segnalare un milestone per quanto riguarda i New York Mets e ci trasferiamo direttamente alla partita di due giorni fa contro i Miami Marlins per altri match sono in striscia aperta di vittorie consecutive questo è Pitalonso che gira il lancio di Daniel Castano girato molto profondo sull'esterno sinistro la palla però si perde oltre alle recensioni del City Field ed è fuoricampo per Pitalonso fuoricampo del 9-3 quarto della stagione l'orso polare è partito assolutamente in modo come sa fare quindi evidentemente con tanti fuoricampo e battute di qualità la cosa importante è che questo fuoricampo che avete appena visto è il 150esimo della carriera di Pitalonso secondo giocatore della storia più veloce da raggiungere questa cifra segno che comunque i Mets sono sul pezzo e se la possono giocare in una division assolutamente competitiva con Atlanta Braves ricordo campioni di due anni fa e i Philadelphia Phillies che sono una squadra che in realtà sono partiti in realtà abbastanza piano erano partiti 0-4 adesso sono 3-5 comunque al netto però che i Philadelphia Phillies non sono al completo hanno perso Bryce Harper fino almeno allo Stargame per infortunio hanno perso Rysolskim per tutta la stagione e quindi Philadelphia deve un attimo assestarsi in qualche modo comunque essere in linea di galleggiamento è importante al netto che comunque Philadelphia è più vicina alle formazioni delle ultime posizioni che ad Atlanta e New York Mets che dovrebbero e potrebbero approfittare del fatto che Philadelphia non sia evidentemente al 100% le ultime squadre della divisione sono i Miami Marlins tra le vinte sei perse ma Miami è una squadra che nel futuro potrà arrivare attenzione a Miami e gli ultimi sono i Washington Nation che paradossalmente sorprendono due vinte di fila con una squadra che non dovrebbe avere grosse possibilità in questa stagione passiamo alle altre divisioni NL Central e NL East nella NL Central i Milwaukee Brewers sono primi con sei vinte e due perse sorprendono i Pittsburgh Pirates secondi con cinque vinte e tre perse e i Chicago Cubs terzi con quattro vinte e tre perse non sorprende in realtà si insennati che è quarta con tre vinte e quattro perse dilude tantissimo St. Louis che è tornata a vincere l'ultima partita contro Milwaukee dopo averne perse e ne di fila St. Louis è partita col freddo a mano tirato nella prima stagione senza Iadi Armolina a ricevere però è clamoroso come appunto St. Louis sia ultima è una delle delusioni evidentemente insieme a Houston di queste prime partite della stagione ricordo sono sempre però otto o nove partite però fa sempre specie vedere squadre titolate evidentemente partire piano ma ricordiamo la stagione lunga parliamo di 162 partite di stagione regolare torniamo invece nella NL West con anche qui una sorpresa perché gli Arizona Diamondbacks da me pronosticati come sorpresa della stagione nella live di giovedì con Andre de Melbitaglia e Puma Zeta Cristian appunto che parlavamo di baseball di MLB nei nostri pronostici ebbene Arizona è partita molto bene una division che in realtà è un macello perché Arizona Los Angeles Dodgers e San Diego Padres sono primi ex equo con 5 vinte e 4 perse con però umori diversi perché i San Diego Padres e gli Arizona Diamondbacks vengono da 2 vinte consecutive mentre i Los Angeles Dodgers vengono da 2 sconfitte consecutive i Los Angeles Dodgers è vero sono una squadra comunque competitiva possono puntare arrivare ai playoff come dicevamo giovedì in diretta a Instagram probabilmente non per vincere il titolo da schiacciassassi perché hanno perso moltissimi pezzi qua e là vedi per esempio i due Turner per fare un nome Tyler Anderson e potremmo andare avanti Cody Bellinger e che più rapida ne metta fatto sta che comunque è una division che sembra più equilibrata degli altri anni San Francisco è appena sotto con 3 vinte e 5 perse ma San Francisco è una squadra che può evidentemente carburare nel proseguo della stagione ultimi sono invece i colori che invece non hanno proprio diritto di cittadinanza rimaniamo però in Enel West e rimaniamo per concludere questo primo podcastone della stagione a una partita già vista evidentemente all'inizio di questo video parlavamo della serie tra gli Arizona Diamondbacks e i San Diego Padres scontro diretto di questa division e abbiamo visto come sia fondamentale rispettare i tempi dell'orologio ebbene nella partita prima è successo qualcosa di incredibile per quanto riguarda i San Diego Padres cose che non erano mai successe nel corso della loro franchigia qui siamo 4-3 per Arizona a parte bassa del nono si presenta David Dahl nel box di battuta palla girata molto profonda e sbattuta fuori nelle recinzioni del Petco Park ed è pareggio per quanto riguarda i San Diego Padres e dunque punto fondamentale per tenere aperta la partita qui rivediamo il giro di mazza di David Dahl che si perde appunto oltre le recinzioni per la gioia dei tifosi di San Diego appena dopo però succede questo perché gira Han Seon Kim il coreano che sbatte fuori questa palla oltre le recinzioni e per la prima volta nella storia i San Diego Padres vincono una partita in walk-off back-to-back home run non era mai successo nella storia dei San Diego Padres Kim è l'eroe della partita contro gli Arizona Diamondbacks McCuff è il lanciatore perdente questa è la gioia dei San Diego Padres che vincono una partita incredibile contro gli Arizona Diamondbacks segno che già nelle prime nove partite questa stagione della MLB sta regalando tantissime cose non solo dal punto di vista regolamentare ma evidentemente dai milestone evidentemente già nella prima opening week di questa stagione abbiamo visto il primo fuoricampo della stagione di Aaron Judge abbiamo visto il 150esimo di Alonso abbiamo visto dei race in stato di grazia dei Padres che ribaltano una partita in un modo insperato e mai successo nella storia insomma è il solito meraviglioso gioco del baseball e ancora una volta benvenuti nella MLB 2023 il prossimo podcastone sarà come al solito per quanto riguarda la regular season a ogni inizio mese quindi a inizio maggio avremo ancora il prosegue con i nuovi aggiornamenti della classifica fino ad arrivare a ottobre da ottobre in poi invece ci sarà come al solito l'approfondimento settimanale sui playoff ogni settimana video ogni fine turno prima ad arrivare all'Euro Series e vedremo chi sarà ovviamente il vincitore il nuovo campione del 2023 ma ovviamente è ancora lunga sono stati giocati solo 9 partite ne mancano ancora 154 il saluto da parte di my tutor guard ci vediamo al prossimo video grazie a tutti